Grazie a tutti. Mi spavento un po' presentare perché sono notissimi a tutti dal punto di vista ovviamente della loro produzione scientifica. Siccome il modo migliore per onorare gli ospiti è dargli il tempo di parlare e dire il maggior numero di cose che vogliono dire, semplicemente vorrei sottolineare che andando da un insignia iranista a un insignia archeologo classico a uno storico dell'epoca romana, ci spostiamo diciamo in senso geografico da oriente a occidente, fermandoci al centro del Mediterraneo più o meno. I nostri ospiti sono qui, oltre che per il loro background scientifico di importanza nota a tutti, anche per la funzione politica che loro svolgono. E questa parola politica non dobbiamo averne paura, no? Perché a volte abbiamo paura di usarla nel senso che è come se la politica fosse qualcosa di negativo. La politica è qualcosa di presente sempre nella nostra vita, nelle nostre attività e direi che è anche una cosa bella che dobbiamo fare come noi cerchiamo di fare in tutti i luoghi dove andiamo, nel senso dell'interesse per la cosa pubblica. E quindi in questo senso i nostri ospiti, nella loro funzione di direttori e presidenti di istituzioni così importanti, possono sicuramente dare un contributo importantissimo alle conclusioni di questa giornata. Quindi passo la parola per prima al professor Rossi. Grazie, buonasera a tutti. Effettivamente è stata una giornata molto completa e complessa, quindi a questa ora siamo tutti credo anche un po' stanchi. Però non possiamo esimerci da considerazioni politiche, nel senso più pieno del termine politico. Che per fare un esempio è uno dei motivi per cui mi è stato chiesto da chi organizza l'Expo 2030 in Italia di essere presente nel comitato e di agire da ambasciatore culturale, chiamiamola così, per dialogare con alcuni dei paesi in cui abbiamo missioni da molto tempo e con cui il nostro governo si trova in questo momento in difficoltà, diciamo così a dialogare. Allora naturalmente ho avuto un modo, sono tornato da una settimana dall'Afghanistan per fare un esempio, da un paio di mesi dal Turkmenistan. Ho avuto modo di vedere un tema su cui vorrei attirare l'attenzione, perché il discorso complessivo di tutta la giornata è stato, secondo me giustamente per l'entusiasmo di chi l'ha organizzata, di chi lavora alle cose che abbiamo sentito, ottimista, se volessi usare un aggettivo sintetico. Io vorrei invece qui attirare l'attenzione su alcuni pericoli che si avvicinano, uno dei quali appunto, sto parlando di cose politiche, è quello politico. Lo spazio che gli archeologi italiani hanno avuto negli ultimi 70 anni, diciamo così, partirei dagli anni 50, si sta restringendo velocemente. Lo sanno anche molti di coloro che lavorano nel Mediterraneo, di cui prevalentemente abbiamo sentito oggi, ma certamente lo sanno di più coloro che lavorano nel Medio Oriente, andando sempre più a Oriente, verso l'Asio Centrale e verso Oriente. Cioè gli italiani sono sempre simpatici, geniali, generosi, che mantengono tutte queste percezioni, però quando poi si arriva al momento in cui si devono prendere decisioni politiche, si devono concedere permessi, si devono organizzare incontri con autorità di alto livello, si comincia, insisto nel dire più nel Medio Oriente, meno nel Mediterraneo, si comincia a sentire un certo irrigidimento. Non è che nessuno parla mai molto chiaramente di queste cose, tanto o meno quando si parla di cultura, insomma le allusioni sono sempre attraverso canali culturali. Però naturalmente faccio l'esempio dell'Iran, che è il posto che conosco naturalmente meglio di altri, per mia condizione professionale, di iranista, non conosco da molti decenni, e lì l'Italia ha iniziato nel 57 ad essere presente, una delle prime presenze italiane importanti nel Medio Oriente. L'Italia ha cominciato dal Medio Oriente, dall'Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan. E naturalmente lì abbiamo noi, ci sono dodici missioni complessivamente finanziate dal Ministero degli Esteri, di cui sei sono Ismeo, tutte finanziate dal Ministero degli Esteri. Naturalmente sono in una fase così di attesa, di capire come si evolve la situazione. Io stesso ho chiesto di andare a parlare con l'autorità, diciamo, archeologica e anche politica, ma in questo caso più direttamente archeologica, e stanno esitando a darmi il visto. Mentre, per esempio, qualunque altra volta, negli ultimi 50 anni l'ho chiesto, immediatamente è stato concesso. Al direttore della più importante missione italiana in Iran, ora che è il professor Caglieri dell'Università di Bologna e dell'Ismeo, che dirige un progetto a Persepoli, a cui giustamente le autorità italiane e iraniane danno moltissima importanza, perché si è trovato il duplicato di una porta, di un grande portale, identico a quello di Ishtar a Babilonia, e quindi che permette di predatare la terrazza che ha prima di Dario, probabilmente anche a prima di Ciro e così via. Insomma, una grande scoperta archeologica, di cui si è parlato poco in Iran e poco in Italia. Le autorità lo vogliono musealizzare più presto possibile, trasformarlo, se possibile, in un piccolo parco archeologico. Sanno che gli italiani, che sono gli autori, sia pure in codirezione con gli iraniani, della scoperta, della sistemazione, della valorizzazione, tutte queste cose. Già lo hanno visitato migliaia di studenti iraniani, perché l'Iran, devo dire da questo punto di vista, è un paese molto attivo, insomma immediatamente divulga ciò che è stato trovato di nuovo, con una velocità per noi veramente straordinaria. E ciò nonostante, pur avendo loro massimo interesse a che i lavori vadano avanti, che sono pagati prevalentemente da noi, dall'Università di Bologna, dall'Ismeo e dagli esteri, pur avendo interesse a che i lavori vadano avanti più presto possibile, si musealizzino il sito più presto possibile, non danno il visto al direttore della missione, che loro stessi dicono che è essenziale che sia presente. Allora lui si sente col collega co-direttore iraniano, adesso l'archeologia si fa molto a distanza, oggi non è stato evocato molte volte, ma è sempre stato sottinteso il fatto che tranquillamente un co-direttore di missione può continuare a dirigere una missione in territorio in cui non mette piede anche da uno o due anni, più di questo tempo non sono del tutto certo che possa continuare. e quindi questa è un'altra variabile importante dell'archeologia di oggi, non l'archeologia a distanza. Però insomma tutte queste cose sono spie, adesso non voglio fare un lungo elenco di cose analoghe a queste, ma immaginate che ce ne siano un centinaio di cose analoghe a queste. In Afghanistan noi abbiamo una missione avvertata da 65 anni, missione archeologica italiana Ismeo in Afghanistan, è ferma, tra virgolette, non nel senso che gli afghani la chiudano, anzi al contrario, gli afghani dicono venite, mettiamo a disposizione i giovani che studiano, eccetera. Però ci sono mille motivi, l'ambasciata d'Italia dice se non venite meglio, insomma, e non è mica il solo caso, insomma, in questo tipo di cose. Quindi per dire, sul caso dell'Afghanistan abbiamo trovato un interesse francese, i francesi ci sono veniti a cercare, perché si sono accorti che Francia e Italia sono i due paesi che da più tempo stanno in Afghanistan, i francesi da 100 anni e noi da 66, e hanno proposto di fare un grande sforzo che si chiama Cher de l'Afghanistan, Catera d'Afghanistan, cofinanziata dalle due grandi università italiane e francese che si occupano di questo, Inalco e orientale, dall'Ismeo e da una fondazione dell'Inalco di Parigi. Allora l'idea di questa fondazione, di comunque far venire giovani sparsi in giro per l'Asia, per l'Europa, specializzarli, cercare di rimandarli trattando con le autorità e così via. Noi avevamo preparato un manuale di archeologia nelle tre lingue, l'inglese e le due lingue dell'Afghanistan, illustrato per giovani studenti di archeologia afghani. Stavamo per presentarlo, era pronto il PDF, quando, per correttezza l'abbiamo mostrato all'Ufficio archeologico del Ministero degli Estri, essendo uno dei finanziatori, e siccome aveva i due loghi del Dipartimento di archeologia del governo talibano di Afghanistan e del Ministero degli Affari Esteri, ci hanno detto, ma noi non potete presentare in questo momento un volume di archeologia che è il nostro logo sulla copertina in questo modo così visibile. Allora noi abbiamo detto, vabbè, proviamo a togliere il logo, vediamo, abbiamo cominciato una complessa trattativa, di fatto per ora non è diffusa se non è stato presentato questo volume, ma i francesi con cui collaboriamo con la Sher d'Afghanistan, sappiamo che invece, pur essendo il loro governo contrario al rientro di una missione archeologica francese lì, tanto è vero che il direttore della missione archeologica francese ha la sede a Parigi, lo si incontra a Parigi, però poi nei fatti attraverso lì Sbairiti e la Gaghan trattano per così dare borse di studio, mandare, e qui ci troviamo in un'iniziativa bilaterale Italia-Francia in cui i due governi dicono che non bisogna trattare con l'Afghanistan, ma poi, diciamo così, non per via, attraverso i due poli di questa alleanza fanno cose diverse, perché noi non è che stiamo trattando con l'Afghanistan, anche se noi qui un'iniziativa l'avevamo proposta che era quella di fare un corso di archeologia per giovani studenti afghani in una università dell'Iran, Mashhad, una regione ai confini con l'Afghanistan, che si era prestata, prestava aule, foresterie, tecnologie, tutte queste cose, a condizione che gli italiani mandassero i professori, gli archeologi, perché loro, a Mashhad, non hanno archeologi specializzati in quell'archeologia. La cosa stava andando avanti quando i rapporti con l'Iran nel loro complesso sono arrivati al livello in cui sono arrivati adesso, quindi anche usare l'Iran come paese terzo in una triangolazione culturale con l'Afghanistan, come capirete, è diventata complessa. Non voglio andare oltre in questi discorsi, ma la cosa è complicata e come dico, lo spazio si ristringe. Un'altra considerazione che vorrei fare e poi chiudo, l'ho accennata in un mio brevissimo intervento questa mattina, è quella della compatibilità finanziaria del nostro modo di fare archeologia. Io conosco bene quello di Asia e di Africa, naturalmente non mi pronuncio sugli altri. È il modello italiano, come fu detto nell'incontro di giugno, organizzato mirabilmente dal ministro degli esteri e dal suo ufficio archeologico in particolare. Grande quantità di missioni e naturalmente tutti sentimmo che c'erano una trentina di ulteriori domande in corso in questo anno, quindi stanno per superare le 300 le missioni finanziate dal ministro degli esteri. E io posi il problema in un intervento lì della compatibilità del modello italiano. Noi siamo passati nel giro di circa 70 anni da quattro missioni in Medio Oriente, tutte molto ben finanziate con ambasciatori italiani a disposizione delle missioni, ministro degli esteri che firmava personalmente gli accordi, eccetera. Siamo passati alla situazione attuale dove vorrei in un inciso ricordare l'università italiana si è trovata nel 1987 quando fu approvata una legge che oggi nessuno più ricorda ma che dette ai rettori delle università i poteri di firmare direttamente accordi culturali con università e entità straniere quindi anche con i dipartimenti dell'archeologia anche la richiesta di licenze, eccetera. Questa cosa è possibile dall'87 fino all'87 i rettori potevano fare domande al ministero degli esteri che vagliava se c'erano le condizioni, eccetera, eccetera quindi abbiamo poco meno di 40 anni di questa diciamo dal fatto che la politica archeologica italiana è passata da un centro a 75 centri quanto sono le università il CNR abbiamo sentito oggi che dal 14 è vero si ha sempre avuto istituti specializzati nell'archeologia orientale è stato menzionato al professor Moscati e naturalmente tutti sappiamo che tipo di attività ha fatto che l'istituto l'istituto anatolico l'ISMA tutte queste cose però la grande quantità di progetti come abbiamo sentito anche micro progetti ma comunque progetti che mettono effettivamente in contatto i singoli ricercatori nostri con i singoli ricercatori della controparte sono partiti da meno di 10 anni nel 2014 quindi il CNR sta adesso nella fase in cui l'università dell'italiana è cominciato a stare dall'87 in poi faccio solo presente poi chiudo che nessuna espansione fisica può essere illimitata quindi bisogna che l'Italia decida un proprio modello o più modelli ormai non c'è più uno stato centralizzato come nell'Ottocento più modelli adeguati alla struttura del nostro stato ma non si può continuare senza modelli grazie inoltre anche per questo approccio concreto e realistico al di là di quello ottimistico che un po' ha improntato in effetti la giornata forse abbiamo voluto anche evitare certe problematiche che invece giustamente sono reali io lavoro in Libano quindi più problematica reale di questo momento non ci può essere passo la parola al professore Emanuele Papi grazie e buonasera a tutti vorrei ringraziare prima di tutto la direttrice Costanza Miliani e Ida Oggiano e gli altri organizzatori di questo incontro che mi sembra molto rilevante e che celebra giustamente il centenario del CNR vorrei fare alcune considerazioni generali la prima è che la diplomazia culturale è la continuazione della politica con altri mezzi da quanto ha detto Rossi sembrerebbe che l'archeologia sia la continuazione della guerra con altri mezzi comunque diciamo sicuramente la diplomazia culturale è diciamo politica estera questa etichetta diplomazia culturale è abbastanza recente fu inventata una quarantina di anni fa da un americano scienziato della politica Milton Cummings per definire pratiche adatte alla conoscenza comprensione e interazione reciproca possibilmente con esiti positivi poi questo genere di diplomazia è anche uno strumento del soft power altro parola di nuovo conio inventata ugualmente una quarantina di anni fa da un altro americano di Harvard Joseph Nye cioè soft power la capacità delle nazioni di esercitare la propria influenza senza ricorrere al hard power e quindi a forme di coercizioni quali guerre embarghi corruzioni eccetera quindi il soft power prevede l'uso della diplomazia pubblica della diplomazia economica e culturale che nei fatti sono spesso connesse fra di loro questo concetto è stato da qualcuno esemplificato con una metafora popolare anche un po' brutale cioè la hard power sta al soft power come il bastone starebbe alla carota ora siccome Sunt nomina conseguenze rerum il soft power non è certo una pratica inventata adesso ed esiste da millenni è stato detto da più di qualcuno che il soft power di maggiore successo è quello della chiesa soprattutto cattolica apostolica a partire dall'operato di San Paolo in poi poi della diplomazia culturale fa parte anche la cosiddetta terza missione delle università e degli istituti di ricerca fra cui ovviamente anche il CNR da quando hanno aperto le porte delle turri seburne con l'impegno oltre che nella ricerca e nella formazione anche nella diffusione delle conoscenze a un pubblico più vasto della nicchia angusta degli addetti ai lavori dunque al corpo di questa speciale diplomazia sono iscritti a pieno titolo anche gli archeologi e gli archeologi italiani che da almeno 150 anni operano fuori dal territorio nazionale questa particolare forma di diplomazia esistita come dicevo anche senza la targhetta sebbene la prassi nelle forme che sono stati oggi così bene illustrate esiste dagli ultimi 40 anni e si è vi è più consolidata negli anni più recenti faccio l'esempio dell'istituzione che meglio conosco cioè la scuola archeologica italiana di Atene che è l'unica istituzione archeologica della Repubblica fuori dal territorio nazionale fondata nel 1909 come termine di confronto cito il caso della Germania che ha 19 istituti archeologici germanici sparsi per tutto il mondo alcuni aperti anche negli ultimi anni e la dozzina di scuole francesi che si trovano in Europa nel vicino oriente nel medio oriente la scuola di Atene ha ancora oggi le stesse finalità e la stessa funzione sociale stabilita oltre un secolo fa cioè formazione specialistica degli allievi ricerche e scavi e come si legge nel decreto regio della fondazione con uno stile un po' arcaizzante serve da punto di convegno fra dotti italiani e dotti greci e il mezzo per favorire cementare i rapporti scientifici fra le due nazioni che hanno comuni i vincoli e le tradizioni della civiltà classica dunque un obiettivo che oggi sarebbe sintetizzato più rapidamente come un obiettivo di diplomazia culturale però non è sempre stato così ed è utile ricordare che fino a poco fa direi fino agli anni 70 e 80 del secolo scorso l'archeologia all'estero si è svolta secondo modalità che oggi si definiscono con una prospettiva storiografica come coloniali senza i riguardi che oggi vengono usati nei confronti dei paesi ospitanti esistono ovviamente anche nell'epoca coloniale delle eccezioni alla prassi dominante con azioni di carattere paternalistico o pietistico nei confronti dei natives del personale locale ben lontane dalle prassi dalle pratiche attuali della diplomazia culturale e quindi l'aggettivo coloniale non descrive solo l'archeologia nei possedimenti europei d'oltremare colonio protettorati perché ovunque quasi ovunque le missioni erano svolte da stranieri in genere poche persone di frequente in competizione fra loro per assicurarsi siti più prestigiosi e poi per illustrare attraverso le rovine le proprie ideologie o le proprie convinzioni e assicurare a se stessi e alla propria nazione la primazia della scoperta e la giusta notorietà al personale locale erano assegnati tutti i ruoli subalterni senza curarsi né della formazione professionale o scientifica dove consentito come sappiamo alcuni reperti venivano spediti nei patri musei la presenza degli stranieri però nel Mediterraneo e oltre in Turchia nel Levante ha avuto però almeno un esito positivo con la creazione di siti archeologici memorabili che sono stati poi nobilitati dall'UNESCO con la targa di patrimonio del genere umano sono diventate siti che sono diventati mete ambite del turismo di massa e conseguentemente fonte di grandi profitti e di sviluppo socio-culturale devo dire che da quando si è sviluppata la diplomazia culturale e con il tramonto dell'archeologia coloniale la creazione di nuovi siti come Leptis Magna Duga Volubilis o Timgad sono rarissimi per diverse ragioni di cui potremmo parlare se avessimo tempo sono rarissimi siti che hanno un impatto come quelli creati durante l'epoca l'epoca coloniare quindi per rimanere in Grecia ricordo solo alcuni casi più emblematici Delfi scavata e costruita dai francesi Olimpia dai tedeschi Lago Radia Tene dagli americani Knossos e Festos a Creta rispettivamente dagli inglesi e dagli italiani la lista sarebbe interminabile se volessimo citare tutti i siti del Maghreb della Turchia e del Vicino Oriente Ora essenziali al successo di questi siti oltre diciamo alla costruzione dei paesaggi con rovine sono state anche le edizioni complete con centinaia di volumi che sono i fondamenti di tutte le altre attività collaterali fino all'archeologia pubblica che può essere efficace solo se basata su conoscenze adeguatamente pubblicate e non su rapporti preliminari e su considerazioni più o meno fantasiosi e purtroppo devo dire per quanto riguarda la Grecia ma anche altre zone che conosco meglio come l'Egitto o il Marocco la mancanza di edizioni complete credo sia un punctum dolens dell'archeologia italiana all'estero soprattutto al confronto con archeologie di altri stati basti pensare alle centinaia di edizioni degli scavi francesi in Grecia oppure degli scavi americani o degli scavi tedeschi ora ovviamente lo scavo i restauri e la valorizzazione dei siti allestiti dagli archeologi coloniali doveva contribuire prima di tutto alla gloria di chi li aveva scavati ma poi per eterogenesi dei fini sono diventati sempre i fiori all'occhiello delle nazioni dove adesso si trovano e i paesi ospiti hanno poi apportato dei correttivi all'archeologia coloniale prescrivendo codirezioni con archeologi locali imponendo percentuali dello staff fra stranieri e locali chiedendo di organizzare restauri laboratori magazzini insieme alla formazione nei metodi e nelle tecnologie nella tutela e nella valorizzazione non ultimo indicando anche i siti da scavare secondo le priorità nazionali ora a questo proposito vorrei dire brevemente due parole e cioè che ogni archeologia è necessariamente un'archeologia contemporanea perché gli archeologi guardano il passato con gli occhi del loro tempo il culto dell'antichità come Alois Riegel lo aveva definito il culto moderno dei monumenti e dell'antichità è recente appena un secolo e mezzo cioè quando è nata diciamo l'archeologia italiana all'estero e forse anche l'archeologia tucur e con il culto delle antichità gli archeologi hanno scavato studiato valorizzato il patrimonio insieme ad architetti restauratori museografi scrittori pubblicisti e guide che sono i comunicatori più importanti nella trasmissione delle informazioni archeologiche sia quelli in carne ed ossa che in formato cibernetico perché la maggior parte delle informazioni che si deslumono sui siti e sull'antichità vengono ascoltate attraverso uno storytelling a volte molto bizzarro dalle guide dei siti archeologici o reperite sul web quindi l'archeologia negli ultimi 150 anni ha molto contribuito a inventare tradizioni sostenere ideologie e formare identità collettive che hanno bisogno sempre di testimonianze materiali nelle quali riconoscersi quindi i beni archeologici non sono beni eterni e universali hanno un valore intermittente a seconda della storia della geografia e dei tempi il tempio di Bella a Palmira era un nemico da cancellare il partenone di Atene è un vessillo da restaurare e da riconoscersi fino all'ultima all'ultima tegola quindi cuius regio eiusque religio si direbbe per quanto riguarda l'archeologia oggi gli archeologi che lavorano nei paesi del Mediterraneo sono chiamati anche a creare un nuovo tipo di identità che è espressamente richiesto dai paesi ospitanti che è l'identità turistica nel senso che il turismo è diventato un'industria pesante e le antichità sono prodotti industriali questo si capisce perché secondo il World Tourism Organization il turismo costituisce il 10% della ricchezza delle nazioni del mondo e in alcuni paesi per esempio la Grecia oltre il 20% per avere un'idea l'agricoltura il 4% ed è in continua crescita esponenziale anno dopo anno si calcola che perlomeno un 5% quindi non ci sono investimenti più redditizi di quelli dei denari che vengono investiti in attività turistiche quindi si devono creare nuovi prodotti antichi che siano riconoscibili siano desiderabili e siano soprattutto redditizi e come sappiamo i siti archeologici sono quasi tutti costruzioni artificiali forse petra e forse le piramidi o il pantheon ma sono quasi tutti sono delle costruzioni fondamentalmente prodotte dall'artificio e hanno un grande potere sulle masse perché hanno una capacità comunque di creare emozioni quindi oggi la diplomazia culturale deve tenere conto di queste istanze dei paesi ospitanti alcune più ideologiche valorizzare per esempio solo una fase del proprio passato e altre più economiche contribuire alla creazione di nuovi siti con scavi con restauri e con valorizzazioni l'esempio della Turchia o l'esempio della Grecia che conosco meglio o stamattina l'esempio del Montenero con questi progetti che andavano su questa linea e sulle richieste da parte delle autorità centrali dunque l'incontro di oggi mi sembra che abbia ben illustrato tutte le declinazioni dell'archeologia della diplomazia culturale archeologica come è stato detto più volte il ministero degli affari esteri patrocina 279 missioni in 72 paesi sono dati dell'anno scorso un numero forse fa parte del modello italiano certamente esorbitante gli impegni delle altre nazioni europee per esempio in Grecia della Francia e della Germania sono molto ridotti a qualche unità sono molto ben finanziati e soprattutto questo per esempio lo fanno gli inglesi sono a termine cioè vengono finanziati per un quinquennio in attesa della pubblicazione definitiva dopo il quale si può continuare per un altro quinquennio ma non c'è un finanziamento diciamo a pioggia sono finanziamenti mirati con obiettivi che poi possono venire rinnovati previa pubblicazione definitiva definitiva dei dati dunque mi sembra che la giornata di oggi abbia ben illustrato attraverso le parole chiave cosa si intenda per diplomazia culturale cioè la conoscenza la conservazione la comunicazione la formazione la cooperazione e mi sembra tutte attività che il CNR conduce in maniera eccellente e nel migliore nel migliore dei modi rimane però sullo sfondo anche un altro problema cioè che sono le finalità dell'archeologia perché gli archeologi sono prima di tutto archeologi prima di essere pontieri o pontifici o comunicatori o restauratori o museografi o valorizzatori eccetera eccetera e dunque la costruzione del dato archeologico credo che dovrebbe rimanere dovrebbe rimanere in una prospettiva di prima fila degli archeologi al di là di tutte le attività pontificali nel senso di pontifices maximi o minimi che ognuno che ognuno si incarica di fare a questo proposito mi sembra interessante una definizione tratta dall'ICOMOS dall'International Council of Museums che ha dato dei musei circa un anno fa con quattro parole chiave molto semplice cioè i musei devono essere accessibili inclusivi accettare la diversità e la sostenibilità e la finalità dei musei dovrebbero essere educazione piacere riflessione e conoscenza credo che potremmo utilizzare le stesse parole anche per definire l'identità e la funzione degli archeologi quindi ricercare ricostruire e narrare la storia di un contesto includendo tutti i capitoli non solo i capitoli che più interessano ai ricercatori o i capitoli della storia che vengono richiesti dai paesi ospitanti questo può sostenere anche le questioni ai punti di vista e le istanze di generazioni future next generations come adesso si dice che inevitabilmente saranno diversi dai nostri faccio un caso breve e poi mi taccio l'archeologia coloniale nel Maghreb e in Libia ha valorizzato soprattutto i siti di età romana cancellando completamente le fasi per esempio tardoantiche o bizantine o precedenti con la fine della della politica coloniale francese e italiane sono nate nuove istanze da parte delle nuove generazioni che era un interesse e una valorizzazione verso fasi precedenti l'occupazione romana vista anche come occupazione più recente da parte di francesi e di italiani di cui però non è rimasta più traccia perché gli archeologi colonia colonia o coloniali avevano completamente cancellato in una specie di furor di pulizia etnica tutte le fasi che non interessavano quindi credo che questa sia una grande responsabilità e di non cedere troppo agli inviti di lavorare solo sulla Grecia classica e dimenticare la Grecia arcaica romana dell'età del bronzo e bizantina perché il mondo si spera sarà a lungo e non sappiamo chi dopo di noi a cosa sarà interessato grazie grazie mille veramente per tanti spunti che tra l'altro volevo dire molte di queste sessioni meriterebbero poi da sole lo sviluppo di giornate una di queste era proprio la conoscenza declinazione del concetto in cui c'eravamo messi proprio il problema non solo della nostra conoscenza ma di come andando in questi paesi la percezione dei beni culturali del passato il mondo arabo le affarat che cosa come sono percepite localmente ne parlavamo anche con Eleni Porfiriu che diceva la situazione della Cina e quindi una percezione del patrimonio culturale dell'architettura completamente diversa dalla nostra e quello sarà un tema interessantissimo a cui magari vorremmo dedicare una giornata cedo la parola molto volentieri al professor Attilio Mastino grazie mille davvero per questa occasione sono molto onorato io direi che possiamo rinunciare alle immagini mi terrei anche io alla formula che è stata trovata anche perché Moetashur da Cartagine ha fatto vedere alcune delle cose della scuola in particolare la biblioteca Sabatino Moscati che attualmente è in piena efficienza volevo ringraziare Maria Chiara Carrozza è stata con me alla conferenza dei lettori la direttrice Costanza Milani e poi la nostra carissima Ida Uggiano e tutti gli altri ovviamente che hanno parlato e che hanno collaborato a questa iniziativa perché veramente avete dato un quadro dell'attività dell'istituto che è impressionante che ci servirà anche per regolare molte questioni innanzitutto noi viviamo leggo soltanto due righe noi viviamo un tempo di trasformazioni di rischi di conflitto tra culture tra popoli anche per la nostra incapacità di comprendere gli altri di sviluppare una pacifica vita in comune di mettere da parte egoismi e interessi di rifiutare integralismi e intolleranze senza ingenuità perché i buoni propositi non bastano di più di fronte alle forze in campo e all'ombra del conflitto nucleare il male è il nazionalismo dei nostri tempi che ignora il pluralismo e il valore della diversità in un mediterraneo noi oggi siamo andati ben al di là del mediterraneo il mediterraneo dove il mare non sia più una frontiera ma la piazza di un'interazione pacifica per usare le parole di Edgar Morin per il quale dobbiamo constatare che i futuri impensabili del nostro passato sono diventati ora futuri impensabili del nostro presente è una frase di Alfredo Cacopardo ai nostri giorni ci ha sorpreso l'accanimento e la barbarie di tante guerre in corso che hanno provocato centinaia di migliaia di vittime con terribili danni inferti al patrimonio culturale che rappresenta una risorsa ha un valore intrinseco lo dicono i ministri della cultura del G20 è una componente essenziale per lo sviluppo umano svolge un ruolo fondamentale nel favorire la resilienza e la rigenerazione delle economie e delle nostre società è la base per rilanciare la prosperità la coesione sociale il benessere delle persone e delle nostre comunità nelle diapositive avevo l'immagine dell'esecuzione dell'archeologo di Palmira Khaled Khaled Assad ucciso durante la primavera araba nel 2015 oppure le immagini dell'attentato al museo del Bardo sempre nel 2015 ma la Tunisia resterà me e la Tunisia resterà dei bus dicevano le donne che sfilavano davanti al museo del Bardo il Bardo è stato riaperto dopo otto anni soltanto in questi giorni allora noi abbiamo un problema grave parlo dell'aeroporto internazionale di Tripoli parlo di tante altre questioni che abbiamo sotto gli occhi abbiamo un problema grave e noi siamo un microscopico ingranaggio all'interno di un mondo così diviso che tende a divaricarsi allora inizierei a spiegare che cosa si voleva fare con la nascita della scuola archeologica italiana di Cartagine la scuola in realtà non è un'idea né di Sergio di Bichini né mia ma vi sorprenderò con quella che sarà anche un po' una battuta ma di Carandini e di Torelli lo raccontavo a Tosero una ventina anni fa mi fa piacere che ci sia la professoressa Rizzo lo raccontava di vita quando Carandini e Torelli desideravano poi Torelli si era si era pentito voleva voleva diciamo che di vita lasciasse la scuola di Atene sto entrando in un terreno minato ma insomma c'è nel libro quindi gli aveva proposto l'idea di portare la sua esperienza la sua cultura il suo spirito di intraprendenza anche perché aveva lavorato tanto in Libia in Cirenaica in Tripolitania di portarlo in Africa per costituire la scuola archeologica italiana di Cartagine che è nata come sapete all'indomani dell'attentato al Museo del Bardo nel 2015 ha una sua rivista rivista Cartagine studi e ricerche ha circa 250 soci per la metà circa magrebini ha una sua collana di pubblicazioni ha una sua sede ufficiale che è presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi è una sua sede secondaria nel Museo archeologico di Cartagine dove abbiamo avuto i locali che ospitano questa grande biblioteca donata dalla famiglia Moscati di 6.000 volumi che proprio in questi mesi è stata catalogata nell'ESPN nazionale italiano per cui è possibile consultare tutti i libri per esempio di Moscati l'ho fatto io la settimana scorsa per il secondo premio Sabattino Moscati tutti i libri di Moscati nella biblioteca c'è una frase di Moscati che mi ero segnato in un libro postumo pubblicato mi sembrava giusto anche citarlo in questa sede Moscati Sabattino Moscati nei fondamenti della storia mediterranea come civiltà del mare diceva che tutti avvertiamo l'inadeguatezza di una vera e propria storia mediterranea proprio nel momento in cui il compiuto apporto di nuove conoscenze mostra la parzialità delle trattazioni esistenti anzi si può dire che non esista finora lo scriveva quindi vent'anni fa quella vera e propria storia mediterranea in cui i singoli apporti devono confrontarsi e integrarsi quando tale storia potrà essere scritta è difficile dire anche perché la formazione degli studiosi per aree culturali non conosce ancora l'impiego integrale e di prima mano di un materiale così vasto disperso di forme e tuttavia la storia a dimensione mediterranea mi sembra la grande frontiera dell'avvenire il necessario superamento di steccati anomali se non fuorvianti per la comprensione dell'unico denominatore valido e completo del mondo antico se vi è un protagonista questo è il mare quel mare che per gli antichi costituisce l'orizzonte la condizione il limite della loro avventura in questi sette anni perché ormai ci avviamo otto anni ormai ci avviamo all'ultimo anno della dirigenza attuale quindi ci sarà un ricambio diciamo nel 2025 in questi otto anni abbiamo tentato di creare relazioni stabilire contatti io sono rientrato nei giorni scorsi da da Tunisi dove abbiamo avuto parte che abbiamo potuto visitare tanti colleghi che scavano che studiano che fanno ricerca epigrafica in varie missioni tuniso italiane il ministero scrive italiane sto dicendo cose che mi sono state fatte notare tuniso italiane in Tunisia il direttore generale volevo fare una lettera al direttore ma ne approfitto davvero per dirlo in questo momento il nuovo direttore generale dell'istituto nazionale del patrimonio è un generale è il direttore generale dell'agenzia nazionale del patrimonio della messa in valore del patrimonio è il nostro collega Dauda So che ha lavorato con noi con Antonio Corda a Utina e la professoressa Soggiu circa vent'anni fa naturalmente veniamo accolti come principi ma il problema non è questo è che ci sono richieste precise primo occorre che il ministero riduca il numero delle emissioni quindi torno sul concetto che veniva fatto prima cioè che il numero delle emissioni è esorbitante riduca il numero delle emissioni italiane in Tunisia parlo della Tunisia ma si potrebbe parlare anche per altri per altri paesi del Maghreb che ci sia una condirezione effettiva alla pari in queste emissioni e che il ministero non autorizzi delle emissioni si è incapponito scherzavo con lui si è incapponito sull'aggettivo che avete usato operazionale le emissioni operative che sono state autorizzate dal ministero italiano in Tunisia il direttore generale non ama questo aggettivo operazionale perché sostiene che la operatività di queste emissioni passa attraverso l'autorità tunisina non l'autorità italiana quindi ci sono tante piccole cose adesso poi non mi sembra il caso nemmeno di 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 così di esagerare perché il ministero ha fatto moltissimo e ha consentito a noi veramente di 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 andare molto in avanti di abbiamo avuto l'incontro con l'ambasciatore l'incontro col direttore col direttore dell'istituto italiano di cultura siamo costantemente seguiti dal ministero quindi le emissioni funzionano e hanno dato risultati hanno prodotto risultati parlo della Tunisia dell'Algeria della Libia e del Marocco ma in generale possiamo dire che c'è qualche aggiustamento da fare almeno in Tunisia quelle che dovevano essere delle dunque per tornare al punto della iniziale quella della politica e mi avvio veramente a concludere delle primavere arabe secondo il quartetto dei premi Nobel della Tunisia che hanno partecipato a tante nostre iniziative per esempio quando con l'Unimed abbiamo presentato gli studenti che hanno potuto studiare in Italia per la laurea magistrale stiamo parlando di centinaia e centinaia di studenti grazie al finanziamento della fondazione di Sardegna in quell'occasione il uno del quartetto il sindacalista membro del quartetto dei premi Nobel ha detto non parlate più correceva il presidente della fondazione non parlate più di primavere arabe perché questi sono terribili inverni e di questo ci rendiamo conto tutti quanti ce ne rendiamo conto da anni nel senso che la Tunisia ma mi immagino la Libia con alcuni bombardamenti con la divisione che c'è stata ha fatto molti passi indietro nel nel campo del prodotto interno lordo della promozione culturale del rapporto con l'esterno allora ci sono tante cose da ripensare su questo modello italiano che a mio avviso esiste davvero nel senso che ci sentiamo accolti come diversamente da come vengono accolti altri che vengono da potenze che sono state coloniali parlo della Tunisia ci sentiamo accolti diciamo in un modo positivo c'è tanto spazio per andare avanti e noi presentiamo abbiamo presentato da giugno fino alla settimana scorsa a Cartagine nella sede della scuola di Cartagine sulla Birsa la mostra che adesso vi dirò in due parole intitolata dalla matita al click le antichità della della Tunisia e dell'Africa dell'Africa del Nord secondo Luigi Balugani Luigi Balugani è un bolognese che è partito per la Tunisia e l'Algeria al seguito i Bruce lo scopritore del Nilo Bianco dell'insorgente del Nilo siamo nel Settecento circa vent'anni prima della spedizione di Napoleone in Egitto allora Balugani ha in Tunisia in Algeria fatto una serie di disegni con una camera un prototipo di macchina fotografica una camera oscura diciamo particolare che noi abbiamo in questa mostra che si apre il giorno 3 novembre adesso da Cartagine a Sassari e poi verrà portata ai musei reali di Torino nel catalogo che poi lascio agli amici naturalmente abbiamo presentato la situazione di allora e la situazione di oggi dei monumenti non so il Medra Sen in Algeria gli scavi di Ticnica dove stiamo scavando le fasi islamiche ti voglio tranquillizzare ci abbiamo le fasi islamiche dentro la portezza bizantina quindi abbiamo tutto il materiale islamico che è stato catalogato da Marco Milanese da Biagini e altri a Uchimaius e adesso stiamo facendo un lavoro analogo a Ticnica ma veramente devo concludere volevo semplicemente esprimere l'apprezzamento per l'attenzione che ci è stata riservata oggi e dirvi che ci sono davvero delle pratterie davanti a noi e che è fondamentale la collaborazione del CNR in particolare il vostro istituto con le università con le scuole con l'ISMEO con le nostre con i nostri istituti italiani di cultura grazie grazie mille grazie mille ai relatori vorrei ora lasciare la parola di chiusura non so se ci sono delle domande da parte del pubblico se c'è qualche osservazione ecco ma giusto due parole su questo sul modello italiano che a mio avviso è in parte legato al fatto che abbiamo una storia coloniale molto più breve e meno estesa abbiamo meno nemici tradizionali e a proposito dell'archeologia coloniale vorrei dire che io percepisco attualmente una differenza gigantesca soprattutto in Turchia dove ho lavorato per circa 50 anni perché l'archeologia coloniale consisteva praticamente nella ricerca delle vestigie della classicità in tutti i paesi dove se ne potevano trovare con scarsa attenzione o anzi nulla attenzione per le culture locali adesso è un po' il contrario io mi occupo di preistoria e le emissioni preistoriche gli studi preistorici in Turchia sono dilaganti e perché si occupano delle radici locali e dei processi storici che hanno portato alla formazione anche alla fine del mondo classico e questo su questa base naturalmente c'è molta più c'è un terreno molto più collaborativo e molto insomma di condivisione sugli obiettivi che sono dietro le operazioni archeologiche con riferimento a questo avevo l'immagine del basamento con la statua di Mussolini a Leptismagna davanti al museo il castello rosso di Tripoli dove Gheddafi ha messo un museo archeologico straordinario Gheddafi aveva messo la sua Volkswagen che è stata demolita nei mesi successivi e l'iscrizione diceva così torniamo laddove fummo e quindi qualche colpa c'erano anche gli italiani credo un altro tema che non è stato oggi toccato noi parliamo dei paesi di cui ci interessiamo come fossero realtà unitarie faccio un esempio in che senso non lo sono il direttore generale delle antichità libiche ha chiesto recentemente alla nostra collega Baric che ha diretto nel passato missioni preistoriche in Libia di riaprire una missione lei ha chiesto all'Ismeo sei d'accordo lei ha detto sì siamo d'accordo certo riaprire oggi una missione in Libia su richiesta del direttore generale delle antichità che gliel'ha chiesto significa riaprire una linea con mezza Libia devo sapere l'altra mezza Libia che cosa dice Afghanistan tre mezzi Afghanistan non due ma tre mezzi e così via insomma quindi c'è questo punto l'italiano può essere simpatico quanto si vuole può essere non colonialista nel passato quanto si vuole però si va verso linee sempre più complesse eh sì la complessità un aneddoto una collega che lavorava in Tunisia è stata chiamata dal ministero degli esteri tunisino chiedendoli di intercedere con le autorità italiane per rimpatriare le ossa di Giugurta nuovo eroe nazionale che è stato sgozzato e buttato nel Tevere quando lei ha sgranato gli occhi ha detto non tutti basta solo un osso come Sant'Agostino perché Sant'Agostino a Ippona da San Pietro in Celdoro da Pavia hanno mandato un'ulna non so un pezzo della quindi questa è una battuta ma le richieste possono insomma essere bizzarre fino a fino all'inverosimile sì è assolutamente richieste ufficiali assolutamente siamo poi noi i reduci dalla grande meeting in Arabia Saudita dove si sono presentati come col grande spiegamento delle piume del pavone facendoci vedere la facciata buona della loro della loro attuale politica e vabbè sì poi nei paesi figuriamoci il Libano se uno va al nord uno va al sud passiamo dai cristiani agli sciti insomma si aprirebbero però è vero sono ovviamente più si va in queste realtà diverse extraeuropee e più si incontrano situazioni molto molto varie è molto difficile ecco una di una parola che vorrei dire che lavorare in questi paesi è veramente molto 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 complicato e diventiamo pur non essendolo perché come dice Emanuele siamo archeologi alla fine dobbiamo diventare diplomatici e dobbiamo ascoltare le esigenze allo stesso tempo non perdere di vista la nostra prima missione che è la missione scientifica prima della terza missione che è quella di livulcare però vorremmo anche avere una missione scientifica per cui il quadro è decisamente complesso vorrei lasciare ora la parola per le conclusioni vorrei alla direttrice allora grazie grazie a tutti per aver voluto festeggiare questi cento anni del del consiglio nazionale delle ricerche insieme a noi su questi temi che ci stanno a cuore sul lavorare per la ricerca la ricerca è libera quindi questo dobbiamo averlo in mente del nostro primo obiettivo abbiamo detto un ponte le scienze del patrimonio come ponte per il dialogo il dialogo è stato il filo conduttore di queste sessioni dialogo che significano per noi co-creazione il primo dialogo all'interno dell'istituto è il dialogo tra le discipline che ci porta una lentezza nel lavorare tanto più importante perché dobbiamo far dialogare parti diverse di competenza ma tutte verso un unico scopo che è quello del patrimonio è stato detto oggi anche patrimonio che è human being quindi noi vogliamo un patrimonio che sia centrato sull'uomo e non sulle tecnologie ma insieme per portare avanti innovazione in questo settore ringrazio gli illustrissimi ospiti per la loro esperienza per me è una grande crescita e lo è per tutti noi nell'istituto nell'andare a fare le nostre strategie per il futuro quindi ancora un ringraziamento e spero di avere ulteriori sessioni di questo tipo nel futuro perché è stato per noi penso anche sfidante provare a confrontarsi in maniera più distaccata sul nostro lavoro sul nostro lavoro sul campo e su le varie implicazioni che questo lavoro ha quindi faremo ancora questi incontri ringrazio i colleghi perché sono stati bravissimi io ho lanciato quest'idea eravamo a mensa addirittura a Montelibretti hanno lavorato per mesi per creare un racconto unitario e un racconto unitario di un istituto che è nato solo da quattro anni è una cosa eccezionale è la dimostrazione che il dialogo funziona e che questa nostra idea di co-creazione funziona quindi grazie anche a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti